bella a tutti ragazzi siamo tranne su clash royale raga ho trovato il baule leggendario non parlare di l'altro ieri sera e lo sblocco stamattina e domani arriverà un video dove lo aprirò e vi farò vedere cosa ho trovato intanto sono arrivato anche in arena 8 la clonazione la colonazione ho trovato aspettate trovo la clonazione poi decarte ho trovato vabbè già c'è col tronco e la scintilla e questa qui sarà nella terza leggendare senza aver mai shoppato intanto ho trovato la clonazione e il principe nero che lo posso anche migliorare e allora sono livello 9 e sono con 2.346 quindi vedete qui è figo è figo regà e oggi parliamo due attacchi e uno dal clan ora glielo dirò a mio fratello vai su clash royale a fare una sfida però te lo dico io te lo dico io quando ok allora prima farà due attacchi sul coso utilizzerà questo mazzo è veramente forte per me allora faccio prima due battaglia e poi un amichevole poi un amichevole allora siamo pronti e speriamo bene veniamo allora veniamo qua attenzione livello 9 figura 3 che cazzo conosce non lo so io intanto voi dimmi che livello siete se giocare a class royale se vi piace come gioco questo sicuramente in buttera l'orda e invece non è vero perché noi stiamo qui abbiamo fatto subito la torre vai torre vai torre qui gioca zappa legato a cazzo appoggiato da pavigna io e da pavigna la cala lo farò fa potete certo se questo mi fa tutta la regola storia di ammazzo allora abbiamo già una torre che vuol dire vado appuntare la terza corona vuole alla seconda corona ma se vi dico io ho appunto la terza corona facciamo tre corone in live andiamo vai quella ma la fattura intanto io ho fatto tre stelle cazzo meno io ho fatto tre stelle qua e sono tre stelle assicurate e andiamo così prima fatta e qui troviamo il baule d'oro ah voglio trovare il baule magico non immagino trovo doppio baule leggendario raga sarebbe troppo fico allora intanto facciamo vorrei arrivare in arena se non è già arrivare in arena 10 non sai a me viene rilasciata tra 17 giorni quindi arrivo a 2600 io la posso fare qua andiamo a fare un'altra e poi facciamo un amichevole allora questa lille sain tosmann anton abdo 2371 coppa buono buono allora ecco la lo sapevo io lo sapevo questo a livello 8 vale il giornale schifo scrausa e no dai questa rega la perdiamo quanto scommettete che questa la perdiamo questa la perdiamo la perdiamo brutalmente questo e dai che lentezza che mio 4 5 6 dai un colpo dallo ok un colpo l'hai dato destino almeno quello l'hai dato questo sicuramente come o me zappa ma vabbè mi ha fatto un po di hit grande ti voglio bene ti voglio bene grazie mi sono le più cose oh mannaggia questo da una mamma mia nooo告 ce che cazzo dividing tanto una mia mo' se trovi arriva nooo chuffe nooo mi ha fatto una nascolta lorenza in live lorenza infnegoti da giù cosa si sento solo sono detto tutto di più aspettare punti portanto il fatto il mondo partenza è arrivato il domatore è arrivato il domatore noi siamo tutti pronti noi siamo tutti pronti e via e dai guarda che fortuna questo ho perso ho perso quanto l'odio non vale una cerca di culo ho perso ho perso allora la prima l'ho persa su due ora farò un amichevole e poi questo video si concluderà qua perché poi domani ce ne sarò un altro dove apriremo questo bellissimo baule allora vai amichevole ok ora ti ammazzo ti ammazzo mica lo capisce questo amichevole poi se volete farò un torneo farò un torneo di 10 gemmi perché so povero sì ma che gioia fa mio ma che gela sto down vai tronco ti voglio bene tronco vai tronco e gli ho fatto la torre tronco gli ho fatto la torre vabbè tanto qua la torre ormai è presa io gli ho ad attaccare vedi qui cortgheri vedi qua attenzione attenzione io quel domande non lo lascio perdere l'alante ormai ha fatto tre corone gli ho fatto tre corone scialla scialla vai tre corone forever alone io ho perso le tre corone tre corone dei corone ragazzi dai sul canale di creeperQ99 ora vi lascerò il canale di Daniele sotto in descrizione e poi basta ora se ne andrà perché mi sta proprio sulle allora raga intanto ce l'ho pure non so e vabbè domani apriremo il baule leggendario e faremo altri due attacchi io vorrei trovare ora principessa cavolo raga se trovo no raga o stregone elettrico voglio trovare raga voglio trovare mi ha sfidato di un amichevole e dai allora raga altra amichevole I'm ruspa di certo I'm ruspa 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 ma che è sto qua ma io manco lo conosco c'è un'altra amica non lo conosco te devo rompere te devo rompere te devo ma te rompo mi spagherme hai rotto tanto erca ma te rompo vai vai su su oh questo sta attiva veramente bene sta giocando attenzione tronco 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 ci tronco la vita è live un colpo l'hai tirato grande ti voglio bene ti voglio ti voglio bene ti voglio ti voglio bene ora raga questo qua appena farò la torre ve lo farò rivedere ragazzi sono ritornato e ho fatto una corona ragazzi ho vinto una corona e diciamo che per questo per questo video è tutto e al prossimo video a domani bella a domani Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.